ciao a tutti benvenuti in questo nuovo video speciale oggi vado a rispondere a una domanda che mi è stata fatta in merito alla stregoneria tradizionale ho capito che vi piacciono particolarmente questo genere di video perché è una domanda che è stata fatta sotto l'altro video della stregoneria tradizionale del cosa succede dopo la morte che vi lascio linkato qua sopra e la domanda è questa grazie per questo video davvero adesso però non posso fare a meno che proporti un altro video è una cosa sicuramente che entra più nel personale ma hai affermato di aver avuto un contatto visivo con una divinità quindi mi piacerebbe vedere un video dove ci parli di questa tua esperienza credo sarebbe di aiuto a molte persone che hanno avuto esperienze simili e che magari non se ne sono neanche rese conto ritrovandosi confuse io ho deciso per il semplice per due motivi uno per il fatto che su queste esperienze sono estremamente personali da un lato dall'altro per essere più di aiuto possibile ho deciso di parlarvi di tutti e tre i modi in cui sul livello nel regno terrestre si possono manifestare delle entità non sto a parlare solo di divinità naturalmente quindi vado a parlare anche gli spiriti e lo stesso vale in parte anche per i morti e poi così arriviamo al al succo della domanda vera e propria quindi è possibile secondo la stregoneria tradizionale incontrare divinità spiriti defunti e bla 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 assolutamente sì ricordatevi che la stregoneria tradizionale è una stregoneria che dice o comunque che crede che è possibile avere rapporti con qualunque entità perché essenzialmente una strega tradizionale vive nello stesso momento nel regno terrestre e si interfaccia tra virgolette al regno celeste o comunque tutti sui nel senso che questo mondo fra virgolette diciamo che questo regno si sovrappone al regno celeste che poi viene alla fine a mischiarsi quindi sì si possono avere certamente delle degli incontri sul regno terrestre anzi nel regno terrestre questo genere di incontri avviene in tre modi diversi non tutte le entità sfruttano lo stesso modo ok c'è il livello più soft il livello intermedio e poi c'è il livello più eclatante che è quello proprio di vedere visivamente manifestarsi esattamente come come sono ci tengo però a precisare che non solo sul regno terrestre naturalmente si possono incontrare l'entità ma si può andare direttamente anche nel regno celeste a incontrarle però su questo tralascerei perché il centro della domanda è proprio il regno terrestre allora nel regno terrestre un'entità si può palesare essenzialmente in tre modi diversi e adesso facciamo una specifica tramite profumi o suoni particolari particolari scusate tramite l'incarnazione e tramite il manifestarsi fisicamente allora ricordiamoci solo una cosa l'entità sono di vario tipo e vario genere ognuno ha i suoi modi di approcciarsi ognuno ha i suoi modi di mostrarsi non a tutti si mostrano quindi non è che se all'alba vedete uno sberlucicchio sul prato a prescindere sono un paio di fate ok cioè non so come dire non confondete il fatto che c'è questa possibilità con il fatto che qualsiasi sberlucicchio lo suono di campanelli particolare che sento a prescindere un'entità ok nelle alle streghe tradizionali è molto comune incontrare l'entità l'esempio più eclatante di tutte l'ho già detto l'altra volta ma lo dico anche questa è best ideallo perché si portava a cena le fate ma tantissime streghe tradizionali hanno contatti con le entità di vario tipo di vario genere ricordatevi però che non è una cosa da tutti nel senso non tutte le entità si manifestano sul piano terrestre non tutte le entità si manifestano visivamente non tutte le entità si incarnano non tutte le entità decidono di manifestarsi per x motivi la stragrande maggioranza delle entità se proprio dobbiamo essere sinceri parla attraverso i famosi segni messaggi tramite gli animali messaggeri tramite i famosi segni attirando la vostra attenzione via così e su questo avevamo già già parlato un minimo sul come riconoscere le proprietà l'altro video speciale che vi lascio sempre linkato qua sopra però torniamo a noi essenzialmente appunto ci sono questi tre modi tramite profumi suoni particolari tramite l'incarnazione e tramite il manifestarsi visivamente sul regno terrestre il primo modo più semplice e più banale fra virgolette per potersi manifestare quello dei suoni e dei profumi essenzialmente questo genere di manifestazione la sfruttano principalmente le divinità per un motivo che adesso vi dico a breve gli spiriti più alti nella scala gerarchica vi ricordate che secondo la stregoneria tradizionale tutti gli spiriti sono su una scala gerarchica quindi detto in maniera brutale chi è più potente sta più in alto chi è meno potente sta più in basso a volte anche i defunti si manifestano così cosa sono i suoni e profumi particolari naturalmente sono innanzitutto suoni e profumi che non potreste mai trovare fra virgolette in una situazione normale adesso vi spiego una mia esperienza molto velocemente sono cose che vi lasciano un attimo un attimo così e addosso con il tempo più si manifestano queste cose più poi riuscite a capire provate una strana sensazione che è una sensazione indescrivibile la potete capire solo se l'avete già provata partiamo dai suoni i suoni sono molto molto facili fra virgolette da distinguere nel senso che solitamente sono campanelli sonagli vari dinglong di vario genere ma è per esempio a me è capitato anche delle che voi sentite fra virgolette o delle voci vere e proprie che è un esempio a me è capitato una volta oppure delle musiche o delle canzoni insomma che voi riconoscete perché quello è importante altrimenti non serve a niente mandarvi un messaggio che voi non comprendete che però non ci sono perché tenete ben a mente questo nel senso nel momento in cui voi sentite il suono di un campanello in realtà non ci sono campanelli da nessuna parte nel momento in cui voi sentite il suono di un suonaglio in realtà sono agli non ce ne sono da nessuna parte per perché perché il campanello il suonaglio che sta facendo rumore non è su questo piano fisico voi lo potete solo sentire è nel piano celeste ma il suono si manifesta nel piano terrestre per volere dell'entità bla 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 ok a me è capitato con delle musiche con delle canzoni che riconoscevo oppure direttamente con delle voci nel senso voi non vedete la cosa ma sentite la voce per esempio una volta mi è capitato ero nel posto sbagliato o meglio ho disturbato evidentemente qualcuno perché una voce a un certo punto ha gridato via mi sono levata dai coglioni perché non era lì che dovevo stare è stato molto semplice molto molto efficace a volte per esempio mi è capitato di sentire una bagianata la suoneria del mio telefono ma il mio telefono ce l'avevo facciamo finta che questo era quello vecchio ce l'avevo qua non suona non sta facendo niente eppure sentivo la suoneria guarda caso non tanto tempo dopo arrivavano delle novità tramite il telefono insomma per esempio per farvi un esempio oppure sentite una particolare canzone che non ci sono radio non ci sono televisioni non c'è niente poi magari succede qualcosa che ha quella canzone in merito ma questo può voler dire la qualunque nel senso poi l'entità parlano ognuno in un determinato modo comunque i suoni sono appunto questa uno dei modi sono più più famosi di solito si dice che se sentite le dei campanelli sono le fate nei ritorni non sono sempre fate su questo fate attenzione anche perché infatti non sono quelle farfalline scintillanti quindi fate attenzione lo stessa cosa può capitare con i profumi a me è capitato di recente in particolar modo le divinità sfruttano i profumi e c'è una divinità fra tutte quelle del mio panteon che è famosa perché nelle sue leggende si dice che quando si incarnava o comunque quando si mostrava sulla terra c'era questo odore dolce sensuale molto forte che appunto colpiva chiunque e guarda un po il caso io da quando quando questa divinità vuole dirmi qualcosa si sprigiona profumo di pesca da tutte le parti che io a volte all'inizio ho pensato di essere pazza perché tipo entrava a lavoro in ufficio e faceva il mio collega ma tu senti odore di pesca no io sì fantastico poi tornavo a casa aprivo il cancello odore di pesca pesca tutte le parti però a casa aspettavo perché era fine estate c'era ancora la rosa noi abbiamo una rosa gialla e rosa che sa proprio di pesca fra l'altro no quindi ho detto vabbè magari è quello poi oltre al fatto che la rosa è una delle sue piante sacre per eccellenza un giorno arrivo nel parcheggio di lavoro e avevo tre petali di rosa per terra e profumo di pesca da tutte le parti ho capito chi è va bene ho capito ho capito chi è benissimo questo per esempio in un altro modo ma non non è che ci fossero pesche da qualche parte o lo sentite ancora ottobre per esempio l'odore di pesche palesemente non sono le pesche la frutta e questo è il modo più semplice fra virgolette che hanno poi c'è il metodo dell'incarnazione il metodo dell'incarnazione viene sfruttato quasi esclusivamente dalle divinità per un motivo molto semplice loro non possono manifestarsi fisicamente sul piano terrestre perché il loro livello di energia esattamente come altri determinati tipi di spiriti vedi draghi vedi unicorni vedi quant'altro è così forte che le leggende stesse lo dicono tu non puoi incontrare una divinità faccia a faccia che si mostra nel suo aspetto insomma di divinità perché altrimenti o muori essenzialmente o vieni accecato dal loro dalla loro folgore dalla loro luce eccetera eccetera insomma ti succede qualcosa di molto brutto ed è esattamente così infatti le divinità quando vogliono manifestarsi e voi le potete incontrare è perché si incarnano in un'altra persona e mi è capitato due volte in questo senso io dico che ho incontrato delle divinità perché letteralmente la divinità in quel momento era nel corpo ok di una persona in realtà di due persone mi è capitato due volte la sensazione è questa la sensazione che tu parli con quella persona a un certo punto vedi come un velo ok che gli scende sugli occhi come se non lo so come se una certa non lo so fossero spenti che fra virgolette è una cosa che ho provato anch'io perché una volta una divinità si è incarnata in me quindi lo so benissimo e la sensazione è che a un certo punto tu ti spegni poi ti riprendi e dici ok non ti ricordi un cazzo hai continuato a fare delle cose senza rendertene conto quindi vai avanti così nel visto da fuori è ancora più inquietante perché a un certo punto è come se nei loro occhi si spegnessero fra virgolette è una sensazione molto strana e questa persona con cui tu magari stai parlando di qualcosa ti dice qualcosa che evidentemente molto importante perché altrimenti non sono una divinità non si scomoderebbe incarnarsi in qualcuno ti dice qualcosa inerente alla situazione che stai vivendo ai problemi che hai e poi se ne va non stanno mai tanto nel senso che lo sanno che altrimenti lascierebbero spostato fra virgolette l'ospite no essenzialmente mi è capitato due volte di cui una per esempio mi ha detto solo una parola cioè io con mio collega stavo parlando di una cosa a un certo punto visto un velo fra virgolette sugli occhi e questa persona mi ha detto con la sua voce non con la voce di qualcun altro mi ha letteralmente detto ritenta e poi il mio collega è ritornato e io sono sicura che se andasse dal mio collega gli dicessi ma perché mi ha detto quella cosa questo mi direbbe io non ti ho detto un cazzo cosa vuoi da me perché in effetti non mi ha detto niente io so solo che una certa si è spento ma lo vedevi proprio negli occhi si è spento mi ha detto quella cosa e poi si è ripreso e mi è capitato due volte questa cosa ed è in quel senso io ho incontrato una divinità perché poi è sempre stata la stessa che si è incarnata in due persone diverse fra l'altro lo stesso giorno e mi ha lasciato un attimo un po' wow anche perché io con questa divinità ho dei rapporti abbastanza stretti soprattutto sul piano celeste quindi riconosco a pelle questa divinità riesco a capire quando è lui perché è una divinità maschile o quando no e infatti secondo me lui se infatti quando io gli chiedo gli ho chiesto se fosse lui mi ha detto di sì quindi è stato abbastanza strano anche perché ripeto quando una volta a me è capitato il contrario cioè nel senso che io ho fatto da ospite a una divinità perché in realtà mi doveva dare una mano quindi ha fatto prima far così fra virgolette ha fatto lui perché è una divinità maschile fra l'altro ha fatto lui al mio posto intorno a me e io a un certo punto mi sono ritrovata che stavo scrivendo guardo il foglio e dico non l'ho scritta io sta roba non l'ho scritta non mi ricordo neanche di averla scritta io so solo a un certo punto mi sono spenta non c'ero più ho continuato a fare come se niente fosse infatti le persone che erano intorno a me pensavano se non siamo manco accorte quando mi sono ripresa ah non l'ho scritta io sta roba perché erano cose che non potevo sapere fra l'altro comunque questo è il modo per incontrare una divina qualsiasi avete per caso avuto delle sensazioni come appunto la persona che è andata davanti a un certo punto si è spenta meno questa è stata la mia mia esperienza magari mi sbaglio però si è spenta a un certo punto e ha detto cose che per voi hanno un particolare significato perché ricordatevi che se lo fanno è perché vi devono dire qualcosa di molto urgente che non ha bisogno di cavolate ok è diretto proprio diretto un messaggio diretto boom boom molto probabile che abbiate incontrato una divinità di solito lo fanno le divinità all'incarnazione altrimenti se sono altri spiriti non diciamo particolarmente elevati sulla scala gerarchica ma un pelo più basse le potete vedere proprio si manifestano proprio esattamente come sono e io vabbè questo ve l'avevo già detto in questo senso ho visto il castello delle fate letteralmente fra l'altro fighissimo e Io ho potuto incontrare gli ignomi detto proprio col cuore però in questo senso E' anche più immediato nel senso che se si manifestano quelle sembianze che hanno E' più immediato è più facile fra virgolette capire che effettivamente sono loro il momento dell'incarnazione incontrare una divinità non è semplice se lo fanno è perché è una cosa molto urgente molto che non ha bisogno di fronzo insomma dire boom boom l'incontro e manifestazione fisica di solito capita perché o si sono persi un pezzo nel senso che non erano Li coglie alla sprovvista fra virgolette Raramente vogliono effettivamente farsi vedere di solito li coglie alla sprovvista come è capitato a me tutte Tre le volte Che mi è successo Gli ho coltato alla sprovvista non erano pronti Infatti quando poi si sono rese conto boh ho sparito tutto Chiuso finito Quella è stata la La cosa Alle streghe tradizionali capita spesso Io ho incontrato due volte la stessa divinità Beh messaggi quant'altro Vabbè quello è tutto Tutti i giorni cioè quello che è però ho incontrato due volte appunto la divinità Ehm Manifestazione fisica l'ho vista tre volte di spiriti sempre diversi fra l'altro Credo che le ultime in realtà fossero delle libri ma non sono tanto sicura E Ehm E la parte di odori suoni e quant'altro mi è sempre successo anche proprio voci nel vero senso della parola Ehm Per noi è normale fra virgolette Nel senso che le streghe tradizionali sono molto come le edge witches Quindi quelle che stanno a confine No? Che quindi hai uno scambio continuo con gli altri mondi Quindi è tutto normale fra virgolette Per persone che non hanno questo genere di scambio Perché fra l'altro è anche comunque sfiancante Non pensate che solo perché ricevi Non patite niente Anzi è molto sfiancante Nel momento in cui incontri E beh è abbastanza sfiancante Perché comunque in quel momento hai uno scambio di un qualcosa Credo Te lascia abbastanza wow Un attimo Molto molto così Comunque sì Questi sono i modi appunto per incontrare le entità Sul piano terrestre Niente Detto questo fatemi sapere qua sotto nei commenti Se per caso voi avete Non so Avuto esperienze analoghe O qualcosa che vi è successo Che adesso magari avete capito che cos'era Non lo so Quello che volete Io vi lascio un bacione E noi ci vediamo nei prossimi video Ciao Io vi lascio un bacione E noi ci vediamo nei prossimi video Ciao